11 associazioni di categoria, sindacati e cittadini sono scesi tutti in Piazza Brava a Verona stamattina per dire sì alla TAV. La manifestazione organizzata dal Comitato Infrastrutture Veneto sulla scia di quella tenuta sia a Torino lo scorso 8 novembre ha chiesto all'esecutivo azioni concrete e immediate per il completamento della TAV e delle infrastrutture al fine di rilanciare l'economia del paese e della regione. Sì, è già una cosa molto molto bella che finalmente associazioni, sindacati, imprese, società civile e ordini professionali si sono messi insieme per dire sì alle infrastrutture. La prova è stata anche molto sfidante con i tre gradi di questa mattina però è arrivata gente da Padova, da Rovigo per dire che finalmente si può scendere in piazza anche per fare qualcosa di nuovo per pensare anche al futuro, per pensare al lavoro. L'evento che per la prima volta dopo vent'anni ha visto la città scaligera scendere in piazza per un sì ha richiamato anche Mino Giacchino, promotore della manifestazione torinese. La speranza è che anche il Veneto capisca l'importanza della TAV perché la TAV attraverserà tutta la pianura padana sino a Budapest partendo dalla Spagna. Quindi un corridoio di traffico merci turistico, commerciale, economico importantissimo che interessa tutta la pianura padana e quindi sono venuto a questa iniziativa di Verona sperando che ce ne siano altre perché questa è l'infrastruttura del futuro. Il paese nei prossimi anni crescerà soltanto di un punto di pila all'anno. Se non facciamo le infrastrutture, se non facciamo questa infrastruttura la più importante il paese non si riprenderà, non ci sarà lavoro e i ragazzi dovranno andare a cercare lavoro all'estero. A esprimersi sulla necessità di infrastrutture è anche Giordano Veronesi del gruppo Veronesi AIA il quale ha parlato di un'Italia che ha perso l'umiltà e che rischia di perdersi. È giusto essere qui ma dovremmo essere in centinaia di migliaia perché veramente questo paese che dice no alle infrastrutture è un paese che vuole morire e se continuiamo così finirà che noi dovremmo veramente inchinarci ai cinesi e agli indiani perché vedete che vengono a comprare le aziende e quando arrivano loro noi dobbiamo attirarci da una parte quindi vuol dire che siamo perdenti ma soprattutto è un paese il nostro che si sta arricciando, arrocando su se stesso arrocando su se stesso credendo di essere il centro del mondo. Guardate che il mondo è grande. In piazza sono state diverse le sigle sindacali presenti da Will a Cisl che hanno sottolineato l'ondata di nuovi posti di lavoro che potrebbe portare alla realizzazione dell'alta velocità. Il sindacato tutto è impegnato su questa iniziativa perché sulle infrastrutture assieme a tutti i provvedimenti del governo Conte sta facendo, puntando sulle infrastrutture noi pensiamo che risolveremo molto presto il problema dell'occupazione riaprendo cantieri che sono chiusi ma soprattutto pensando a un prossimo futuro che investendo un miliardo di euro su queste infrastrutture si possono dare 100.000 posti di lavoro. Grazie Grazie Grazie